In un altopiano racchiuso dallo scorrere dei fiumi Bosso e Burano, confluenti dal metauro, attorniata dai Monti Catre a Petrano e Nerone, troviamo la cittadina di Cagli. Cagli ha un'origine antica, come testimoniato da numerosi ritrovamenti di reperti databili a partire dal IV secolo a.C. Dobbiamo l'attuale abitato di Cagli alla rifondazione della città nel 1289, una rifondazione voluta da Papa Niccolò IV che, tra l'altro, tentò di cambiare il suo nome in Sant'Angelo Papale. La costruzione della nuova cale, resasi necessaria a seguito della distruzione, ad opera dei Ghibellini, dell'abitato alto medievale che trovava posto sulle propaggi del Monte Petrano, è stata attribuita dal punto di vista del progetto urbanistico ad Arnulfo di Cambio, uno tra i più grandi scultori, architetti urbanisti operanti tra 200 e 300. Uno straordinario progetto urbanistico, caratterizzato da ampie vie che si uniscono in maniera ortogonale e che rendono Cagli una città ordinata, oseremo dire ideale. Cagli conserva svariati edifici. Tra le belle chiese si ricorda quella di San Domenico, che ospita la famosa Cappella Tiranni affrescata da Giovanni Santi, padre di Raffaello. Il bel palazzo comunale, che fu residenza del duca Federico da Montefeltro. L'imponente palazzo Berardi Mocchi Zamperoli. Il Torione, unica parte superstite della rocca fatta costruire da Federico da Montefeltro su progetto di Francesco e di Giorgio Martini. Poco distante dal Torione, nella piazza dedicata a Papa Nicolò IV, troviamo il teatro comunale di Cagli. La cittadina, già provista di un precedente teatro, l'antico Teatro delle Muse inaugurato nel 1754, fu arricchito da questo importante luogo di cultura nell'Ottocento. La facciata, che assomiglia a quella di un palazzo signorile, è caratterizzata da portali e incorniciature delle finestre in pietra scolpita a bugnato. I lavori al comunale di Cagli iniziarono nel 1871, riadattando il preesistente Palazzo Benedetti, su progetto di due architetti perugini, Giovanni Santini e Coriolano Monti. Varcata la porta d'ingresso, ci ritroviamo nell'elegante foyer, con la sua volta crociera dipinta con decorazioni dei colori cangianti e sorretta da quattro colonne in finto marmo. La sala teatrale, all'italiana, è dotata di tre ordini di palchi più un loggione, le balconate dei quali sono caratterizzate da elaborate decorazioni diverse l'una dall'altra. Al secondo ordine della balconata troviamo le figi degli uomini illustri di Cagli. Le decorazioni interne furono concluse nel 1876 da Alessandro Venanzi e solo dopo il 1878 fu inaugurato con l'opera Il violino del diavolo di Agostino Mercuri da Sant'Angelo Invado. La scenografia di quest'opera fu realizzata da Girolamo Magnani, il preferito di Giuseppe Verdi. La grande volta decorata sui toni dell'azzurro reca dipinte le figure delle sette arti liberali, grammatica, dialettica, retorica, aritmetica, geometria, astronomia e musica, mentre nei pennacchi delle finte vele troviamo busti dipinti a monocromo raffiguranti personaggi legati alle arti maggiori. Al centro della volta un rosone lineo traforato permette, aprendosi, alla lumiera dorata di salire e scendere. Il boccascena, ornato all'appice da un orologio, incornicia il superbo Sipario, opera del pittore Umbro Alessandro Venanzi, raffigurante l'accampamento dell'imperatore Federico Barbarossa che prese da sedio la città di Cagli nel 1162 e in particolar modo raffigura l'episodio della nomina di Ludovico Baglioni a vicario imperiale della città di Perugia. Il fascino del teatro di Cagli è indubbiamente legato anche a tutti gli aspetti che sono contenuti nelle parti nascoste alla vista di un pubblico. Qui vicino a me abbiamo la macchina della pioggia che è una macchina che risale proprio alle origini del teatro stesso e insieme alla macchina della pioggia il nostro teatro conserva ancora sia la macchina del tuono che la macchina del vento. Non sono soltanto questi i tesori che il nostro teatro nasconde perché abbiamo esattamente tutta una serie di originali bozzetti e disegni che risalgono proprio alla progettazione del teatro stesso e quindi parliamo della seconda metà degli anni cinquanta dell'Ottocento. Il teatro comunale di Cagli è il terzo teatro per capienza e per volumi della provincia di Pesaro Urbino dopo Fanno e Pesaro quindi il teatro più importante dell'entroterra. Dalla sua riapertura avvenuta nel 1999 è sempre stato un palco messo a disposizione delle compagnie e degli artisti per gli allestimenti e le prove, per le produzioni teatrali e musicali di danza e per i pubblici che qui possono vedere le anteprime di spettacoli che gireranno l'intera nazione se non l'Europa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.